Il mercatino dei ragazzi del Comitato per la Vita di Grosseto ha raccolto la cifra eccezionale di 71.333 euro, comprendendo anche le donazioni degli eventi di Paganico, Roccastrada e Arcidosso. Per un giorno dunque, ragazzi e genitori hanno fatto i commercianti vendendo di tutto per centrare un obiettivo ambizioso. Questa è la 37esima edizione del mercatino. Siamo stati fermi, come tutti saprete, per gli anni della pandemia. Il nostro comitato, l'anno prossimo, farà i 40 anni di attività. È stata un'organizzazione piuttosto complessa, come lo è sempre stato in passato. Quest'anno ci siamo proposti un obiettivo da donare al reparto di radioterapia. Questo apparecchio consiste in un sistema catalyst, consente di poter effettuare radioterapie durante le fasi morte del respiro, insomma, fra ispirazione ed espirazione, in maniera tale da avere una sorta di precisione notevole nel punto di applicazione e determinare il minore effetto collaterale negativo sui tessuti sani limitrofi. Abbiamo lavorato in questi anni con l'obiettivo di realizzare, proprio qui a Grosseto, all'ospedale Misericordia, il progetto, che è diventato ormai una realtà da tempo, di un polo oncologico di riferimento regionale e nazionale. Vogliamo vendere tutti i nostri giocattoli per donare al Comitato della Vita. E a cosa serve, lo sai? Sì, per creare dei macchinari per gli ospedali. Bravissimo, e quindi venderete tutto fino a stasera? Sì, penso di sì. Grazie a tutti.